Perché oggi lo svedese potrebbe riuscire anche nell'impresa apparentemente impossibile di cancellare Ronnie dal cuore degli interisti. Ci prova in tutti i modi, anche con l'ipnosi. Guardatelo inizio secondo tempo, puntare con lo sguardo il campione di cui vuole prendere il posto. Ronaldo si gira come dire, ma questo chi sta fissando? Fissava lui, Ronaldo, per sfidarlo e per studiare come si muove. Un vero fenomeno.